Terza B di un ITC, una classe di classici figli di, ho dubbi ammetici, tipici dei sedici, essere o non essere patetici, yesy, ho gli occhiali spessi, vedessi, amici che spesso mi chiamano nancy, indefessi, mi pressano come uno stencil, boss pensere, terrensi, repressi, con grossi limiti, ma imbottiti, di bicipiti, da divi che invidi, vengono i brividi, sempre fare i fighi, lasciano lividi, non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vestibuone, quindi sono fuori da ogni discussione, no, non mi conoscono ma tirano, le loro no che sui mio profilo da sireno, se sei violento tutti qua dentro ti stimano, se sei mite di te ridano, come di dota però, che ma sento come me, sa che, quando le palle si fanno cubiche, come un kamikaze che si fa di sa che, metto a fuoco intorno a me. Trovo molto interessante, la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante, tutta questa bella gente...